Il colonnello Carcagni Il colonnello Carcagni Il colonnello Carcagni Il colonnello Carcagni che è devastante, che coinvolge praticamente tutti gli organi del mio corpo e che è degenerativa e reversibile, quindi ogni giorno ti toglie qualcosa che non tornerà più e che lentamente ma inesorabilmente ti porta verso la fine. Per cui bisogna essere veramente molto motivati, trovare energie vitali in quello che riesci a fare ancora e nonostante tutto quotidianamente, valorizzando quello che ancora ti rimane, puntando a degli obiettivi, cercando di dare il tuo messaggio, di inculcare anche agli altri quel mai arrendersi che mi ha permesso di continuare a vivere, continuare la lotta contro la malattia e anche spesso contro la burocrazia che ti ammazza più della malattia stessa. Questo mio portare il messaggio soprattutto tra voi giovani che siete il nostro futuro per me è veramente importante, mi dà un entusiasmo e una linfa vitale che è determinante nella mia battaglia quotidiana e soprattutto nelle terapie quotidiane che proprio per la quotidianità, un po' come la goccia che lentamente riesce a perforare anche la roccia, quelle terapie che quotidianamente veramente ti portano allo sfinimento e invece se riesci a trarre qualcosa di positivo anche dai problemi ed è quello che io cerco di fare costantemente, beh posso dire benvenga anche la sofferenza se poi questa mia sofferenza e l'esempio quotidiano che cerco di dare soprattutto a voi giovani dà risultati importanti o mi dà riscontro che effettivamente riesco ad aiutare ancora tante persone e addirittura nonostante non volo con il mio elicottero e non porto soccorso più con un elicottero riesco a salvare ancora qualche vita umana, beh questo sicuramente mi dà una straordinaria forza sovrumana e non a caso qualcuno mi soprannomina alieno e questo mi fa andare avanti ancora a testa alta e dignitosamente Lei è anche un eccellente ciclista, probabilmente avrebbe potuto anche avere una carriera da professionista in questo ambito senza troppe difficoltà se le dessero la possibilità di tornare indietro lei cambierebbe la sua scelta o rifarebbe tutte le stesse scelte che l'hanno portata ad essere l'uomo che comunque è oggi Premesso che indietro purtroppo non si torna mai ma dobbiamo comunque continuare ad andare avanti guardare avanti e non soffermarci al momento ma puntiamo comunque avanti ed è quello che io cerco di fare puntando degli obiettivi obiettivi che ti tengono anche veramente in vita perché se non hai degli obiettivi non puoi sopportare così tanta sofferenza non puoi superare tante difficoltà ma se io voglio arrivare quest'anno in settembre ci sarà il campionato del mondo in Olanda e poi l'anno prossimo, quindi ormai siamo alle porte delle Olimpiadi di Tokyo se io veramente voglio arrivare lì e rappresentare l'Italia mettermi ancora in gioco e dare lustro alla nostra nazione beh, devo passare anche attraverso questa quotidianità che è difficile per chiunque da sopportare, da affrontare, da superare ma per me ormai è normale quello che io faccio vedere e che faccio apparire agli occhi degli altri come semplice in realtà non è così tanto semplice sono io che lo faccio con naturalezza ma la mia fortuna in questo è che io non sono diventato un atleta paralimpico a causa di una infermità ma io ero già un atleta come hai detto tu prima avrei potuto farne un mestiere avrei potuto fare il professionista perché mi hanno offerto l'opportunità di firmare dei contratti per fare il ciclista professionista ma io ero un pilota ero un ufficiale dell'esercito e quello che ho scelto di fare ho scelto di dedicare la mia vita agli altri e quindi non potevo assolutamente smettere di fare il pilota soltanto per coronare magari un sogno di fare il ciclista professionista il ciclismo era una passione l'ho sempre fatta benissimo ad altri livelli riscuotendo risultati sia in campo nazionale che internazionale di massimo livello e questo mi ha aiutato nella malattia senz'altro ad adattarmi sfruttando quello che ancora il mio corpo riusciva a fare anche grazie a una straordinaria esperienza e soprattutto a quella forza mentale che io dimostro quotidianamente che può permettere di andare oltre l'ostacolo oltre ogni limite un'ultima domanda lei in questo momento sta indossando una giacca dell'aeronautica militare una giacca dell'esercito probabilmente se fossero stati tutti messi a conoscenza dei rischi che si correvano durante le missioni nella penisola balcanica adesso la situazione sarebbe diversa quindi che valore ha per lei continuare a indossare in questo caso una giacca dell'aeronautica ma in generale la divisa a cui lei ha detto in precedenza di essere molto legato l'uniforme per me è la seconda pelle stamattina non ho messo l'uniforme giacca e cravatta perché mi stanno aspettando in ospedale per fare la plasmaferesi che è una sorta di dialisi quindi è anche una questione di comodità ma almeno volevo indossare il simbolo che mi rappresenta che rappresenta quei valori importantissimi che esistono ancora e che io credo di incarnare pienamente questa, sì, hai detto aeronautica, sei dell'esercito è il giubbino del pilota quindi fondamentalmente quando si parla di piloti si pensa ai piloti dell'aeronautica ma anche noi dell'esercito abbiamo l'aviazione dell'esercito abbiamo i piloti continuo, ho lottato per continuare a vestire l'uniforme perché dal momento in cui sono stato riformato con il 100% di invalidità ed essendo stato iscritto in ruolo d'onore ho chiesto, ho fatto domanda di rientrare in servizio e quindi dal 1 gennaio 2010 io continuo ancora a vestire l'uniforme a rendermi utile sotto altre vesti perché non sono più idoneo a pilotare un elicottero ma faccio parte del gruppo sportivo paralimpico della difesa che è il reparto atleti disabili coloro che per servizio in missioni operative e in missioni all'estero hanno contratto delle infermità permanenti ci viene data questa opportunità che anche con una tuta ginnica o con la divisa da ciclista possiamo ancora rappresentare l'Italia in campo internazionale e portare a casa anche dei risultati e questo ti aiuta a vivere come spesso io sottolineo c'è una gran bella differenza tra il sopravvivere e il vivere sopravvivo grazie a tutte le terapie quotidiane che devo effettuare ma io vivo nel vero senso della parola quando mi metto in gioco quando sono sul mio triciclo quando rappresento l'Italia o quando sono in mezzo ai giovani come qui con voi questa mattina le ringrazio colonnello grazie a voi per avermi dato questa opportunità di portare anche qui in questa scuola la mia testimonianza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti